Una grandissima opportunità che non mi farei sfuggire perché il Collana è forse ancor più del San Paolo, l'impianto multidisciplina della nostra città storicamente, quindi benvengano tutte le cose che si stanno facendo in questo periodo tra regione, comune, federazioni e coni, ma credo che la vera opportunità sarebbe inserirla alle università e mi è parso di cogliere un interesse da questo punto di vista nei vertici del CONI, quindi questa è una proposta seria sostenuta da tutta l'amministrazione comunale, dalla sua maggioranza in Consiglio Comunale e credo che dire di no è un errore e poi ho anche detto che il nostro obiettivo è ricostruire la cittadella dello sport in vista dell'università, insomma io credo non ci sia in questo momento altra città d'Italia che abbia investito con forza sullo sport, con pochi soldi ma anche dimostrando che siamo pronti anche ad eventi importanti perché in questa città non c'è l'equazione evento-corruzione, questo lo diamo ad altri, questa è la città che sta in prima linea sulla questione morale ma non a chiacchiere con i fatti. Questa città con i fatti ha dimostrato di credere tantissimo nello sport, lo facemmo all'inizio del mio primo mandato con eventi importanti come l'America's Cup, quindi il Giro d'Italia, la Coppa Davis e tantissimi altri e grazie al rilancio di Napoli, non solo nello sport ma proprio come immagine e come forza di questa grande capitale che siamo stati scelti per le università del 2019. Quindi oggi si è discusso sia della situazione degli impianti attuali sui quali si sta intervenendo dallo Stadio San Paolo al Collana, al Palabarbuto, al Palavesuvio ma soprattutto del lavoro che tutti insieme Comune di Napoli, Regione Campania, il mondo universitario e il CONI e le federazioni metteranno in campo per farci trovare pronti e forti e credibili per questo appuntamento straordinario del 2019 delle università. Poi ho colto anche l'occasione per dire che noi andiamo avanti sulla nostra proposta che chiaramente allo Stato non c'è nulla di concreto se non una proposta che però pare che stia trovando anche un certo ascolto che è quello delle Olimpiadi della Magna Grecia. Cioè fare in modo che nei prossimi dieci anni attraverso lo sport si costruisca un ponte di dialogo e di cultura nel Mediterraneo che unisce le regioni del sud Italia, quindi sud Europa, ma con una grande propensione verso il mar Mediterraneo, il Nordafrica e il Medio Oriente con un grandissimo messaggio di pace. Su questo noi siamo pronti, abbiamo un'interlocuzione in atto, l'ho voluto anche dire qui pubblicamente alla presenza del CONI e del suo Presidente.